A Giulia Nova i gnoti sono tornati ad oltraggiare con il disegno di una svastica la piazza intitolata Giovanni Marà, partigiano giuliese della divisione Garibaldina d'Assalto d'Italia. A denunciare l'episodio alcuni cittadini sui social preoccupati da ripetersi di atti vandalici simili che riecheggiano incubi lontani. Un episodio simile si era già verificato nel febbraio 2020 quando gli autori disegnarono lo stesso simbolo nazista sulla targa poi subito ripulita. Numerose le testimonianze di solidarietà e sdegno per quanto accaduto. Questo è simbolo di odio, di bruttura proprio. Non possiamo accettare noi antifascisti che a Giulia Nova, ma non solo a Giulia Nova. E' purtroppo una rinascita di questa ferocia che non può appartenere al popolo democratico e libero giuliese e italiano. Quindi ci siamo subito adoperati per rimuovere questa svastica. La denuncia è forte perché non è un episodio sporadico, ma stanno purtroppo risorgendo dei gruppi violenti che caratterizzano il loro operato anche in questo modo nella nostra città. L'Ampi non l'accetta e lo ha subito denunciato. A Giulia Nova non l'ha denunciato solo Lampi, l'hanno denunciato anche altre forze politiche antifasciste da sempre. Quello che ci sgomenta e ci intristisce è che non abbiamo avuto una parola di solidarietà, di vicinanza da parte dell'amministrazione comunale che in primis doveva prendere le distanze da un atto così becero e violento. In vista del 25 di aprile verrà rimesso questo manifesto in questo luogo? Certo, noi ogni anno provvediamo a ricordare questa data. Il 25 aprile è la data della liberazione, è la data che ha ridato dignità al popolo italiano. Quest'anno ancora più degli altri anni siamo determinati a far vivere questa giornata a tutta la cittadinanza giuliese. Ci sarà un momento di incontro proprio qui in Piazza Marà dove verranno apposti i fiori, quindi il 25 di aprile di quest'anno ancora più sarà la data della liberazione dal nazifascismo.